Oh no, attenti, si è liberato Benvenuti ragazze a un nuovo video di Mr.Mitt2 Allora, vedete come è brutto, è bruttissimo perché non so Allora, questo qui dovrebbe essere il nuovo gioco di Mr.Mitt2 Questo qui è una realtà, quindi direi in cura dalla trugione Questo non è un gioco di questo, non è un gioco di questo Ok, vediamo che succederà Ah, la fine di Mr.Mitt2 L'esecuzione non la facciamo né bravo Ah, ma è bene, quindi il signor carne oggi verrà giustiziatto Va bene, ci sta Non è così purtroppo Ok, questo è il Qui con il ministro di polizia Ah, queste sono le tre donne che mi si trattano a fatturare Direi la verità non so se è scritto felice Rebecca, noi te lo vedremo Siamo tornati insieme Questo è il fine di un capo e il inizio di un altro in nostra vita Come on, lo facevamo come famiglia Eccolo Me l'avevo detto, è lì Ciao ragazza, Rebecca sei tu come sei cresciuto Lui è il protagonista del primo capitolo Ok, ormai sono otto Oddio Tu sei Anthony Grazie per aver salvato la mia figlia Mi sapevo mai Grazie Un po' di parte stavo solo facendo il mio lavoro Grazie 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 li trasformerà in corci vediamo il dottor white guardiamoci il film ci guarderemo tutto il filmato non lo vogliamo ascoltare buona serata ora non le bevete anche il detective l'ha bevuta come mai lui non si è trasformato in un maiale guarda c'è emilia andrò a salutarla ok lì dentro c'è il signor carne eccole avete visto come è brutto ora non si parà a giustiziare facilmente si libererà come siamo finiti in questa situazione eh no lui non si fa giustiziare facilmente si è liberato ed è in giro per la vicina ed è scappato e saltiamo il filmato ma che è successo l'ha detto ciao sono tutti ok? non posso credere sono tutti tornati in pizzi è sembra che questo drink ha condannato mio padre's concocio ma come è possibile? Mentre stavo premendo il tentativo è un porco di Mr.Meet mi è attaccato alle spalle forse non era Mr.Meet era un porco devo seguire la frecciolina però è più bello il tentativo ok è più bello è più bello è più bello la guardia è più bello è più bello a a a a a a a e e a a a non è possibile è rimasto solo un tentativo ma perché muoio sempre quel porco mi avrà attaccato ho perso anche la clean cart per andarla a prendere devo sostrarre solo ecco cosa ho intentato è un bel giuglia guarda devo scarrare sempre non mi raccontare questo mi racconta lui è finito per il fricciono non è una buona nooo è rimasto solo un tentativo madonna ma stiamo scazzando dai è rimasto solo un tentativo ma chi è che mi attocca di continuo no vabbè malecchetto è rimasto solo un tentativo non è rimasto solo un tentativo non è rimasto solo un tentativo non 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 ... ... ... ... ... ... Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Io voglio sapere chi mi ha attaccato Va bene ragazzi il video finisce qui E' impossibile finire questo gioco Anche perché se c'è alcun suggerimento C'è sempre qualcuno che mi ammazza Da me è tutto vi auguro una buona giornata Grazie per aver seguito il video Fatemi sapere nei commenti se vorreste che facessi altri video Su Mr.Met2 Da me è tutto vi auguro una buona Vabbè avevo già detto scusate Perché oggi sono un po' scemo Lasciate like iscrivetevi e ciao